Bisogna fare una sessione, il catalogo enuncia le varie parti del velivolo, della macchina e soprattutto fa l'elenco delle parti che sono fornibili e sciolte, ossia che si possono cambiare direttamente sulla macchina senza fare danni. Inoltre ci sono tre possibilità, c'è il primo grado, il secondo grado ed il terzo grado, in realtà si chiama diversamente ma quei gradi si capisce meglio, quelle di primo grado sono quelle che si possono montare direttamente su un campo e sono enunciate sul catalogo, non un nomenclatore. Quelle di secondo grado invece sono solamente descritte, ma c'è scritto non fornibili, devono essere fatte in fase di prima revisione dei velivoli, perché i velivoli hanno una storia a parte che è molto lunga, di prima revisione e poi c'è la terza parte che invece va sulla revisione generale. Il catalogo fa l'elenco di tutte queste parti, distinguendole uno dall'altra, che hanno poi la conferma sul catalogo di revisione del velivolo e di manutenzione. Quello determina le parti che si possono scambiare direttamente in fase di fermo con quei tecnici o in fase di revisione generale, dove si smonta tutta una macchina e si va a sostituire le parti. Tutto assieme io direi che sono oltre 50 mila, senza considerare la parte elettrica, perché sui velivoli, specialmente adesso, ma anche allora c'è un apparecchio, c'è chilometri di cavi. Io dico chilometri, magari sono troppi, ma ci sono, ci sono chilometri di cavi perché ogni comando è correlato da servizi di controllo, di allertamento, quindi di sicurezza, di andata di corno e certe volte in dublice mandata. La macchina aereo è veramente un gioiello della meccanica e che solamente il passarci vicino ti fa... a me è piaciuto tantissimo, diciamo così, perché è un qualcosa che è nettamente diverso, io conoscevo dai disegni, sono per il meccanico, io conoscevo i disegni di macchine, di queste cose, ma l'aereo è un'altra cosa. E poi tu devi distinguere che sull'aereo c'è la parte fusoliera, la parte diciamo fatta di lamiera, che poi non è lamiera, ma sono tutte leghe leggere, e la lamiera è in acciaio, e poi la parte motoristica, che è considerata parte, e quando ci sono le eliche, la parte delle eliche che ha un altro sistema ancora. Poi ci sono tutti i sistemi interni che devono essere messi a punto e correlati all'interno. Ho avuto la fortuna di iniziare come venivano, come venivano che allora era in forza il PD808, che è un'altra cosa, P166, P166 trasformato, poi le cooperazioni, che magari ne parliamo poi dopo, e poi il famoso e ottimo P180, del quale ho avuto il piacere di fare il prezzo del materiale, quindi l'ho analizzato dall'A alla Z, tutto pezzo per pezzo. Qui siamo sui 70 mila pezzi. La prima è stata del 90, quando sono terminati tutti questi bei lavori, e c'è stato un cambiamento anche nella direzione. Sino agli anni 90 c'era una direzione che i sindacati dicevano paternalistica, ossia c'era la famiglia Piaggio, nella persona del presidente, che era il dottor Piaggio, con un consiglio di amministrazione e tutto quanto, però erano loro. Quando sono finite le coproduzioni, si doveva iniziare alla grande con il P180. Il fatto è che questo momento è andato a coincidere con una certa crisi nell'industria aeronautica mondiale. Questa crisi ha comportato che la Piaggio, che era esposta purtroppo, perché era in via di lancio, ha subito un po' le conseguenze. È cambiato l'assetto sul societario, sono entrati i trattori Finindustria, cos'è? Mi manca anche a dirlo, però Finmeccanica, praticamente l'azienda dello Stato, hanno fatto un caos tremendo con l'obbligo proprio a mio avviso di fare un po' di chiasso, un po' di mescolio di idee, di intenti. Tanto è vero che siamo andati in crisi. La prima crisi è stata, allora eravamo parecchi, eravamo sui 1500, quando è iniziata questa crisi. Ci sono state le prime lotte che abbiamo fatto, eccetera, eccetera, con degli scioperi, una cosa enorme. E c'è stata la prima riduzione del personale, parecchi sono finiti in cassa integrazione, tanti sono stati aiutati ad andare in pensione e si è cominciato lo sfoltimento dalla Piaggio, sia qui che a Sestri. Personalmente nel 1991 mi hanno trasferito a Genova, mi hanno dato l'input di responsabile dell'ufficio commerciale di Genova e allora sono andato a Genova e ho preso in mano tutto quanto la questione amministrativa, cioè commerciale, per le nuove commesse che arrivavano, che non tanto di tutto arrivavano. Ed è stato, sono quelle di 6 P-180 per l'aeronautica militare e che ci hanno dato l'ossigeno necessario per resistere in stand by qualche anno e poi riprendere ed andare avanti. Poi abbiamo costruito, è cominciato la cooperazione con l'America in diretta, il P-180 è stato, diciamo così, allocato praticamente in America e ha vissuto la sua vita, abbiamo di nuovo, siamo andati avanti di nuovo allegramente. Dieci anni dopo è successa la stessa cosa, nelle anni 2000 c'è stato un fermo della produzione e noi ormai avevamo finito tutti i grossi lavori, tutte le vecchie commesse, non c'era più niente praticamente da fare, se non il 180 è un nuovo progetto che non è mai andato avanti, non credo che sia ancora nei cassetti adesso, di un nuovo velivolo che però è lì fermo. Questo cosa ha comportato? Crisi che non potevano essere sopperite, sopperire l'ingranaggio della piaggio, anche se la parte motoristica sosteneva per il buon 55-60% la questione, perché funzionavano sempre le revisioni alla grande su motori che sono ancora in funzione adesso, che hanno fatto storia, sono stati costruiti, sono stati continuamente revisionati e quindi era la liquidità che arrivava regolarmente, permetteva di vivere bene per la piaggio. Molto spesso i finalesi non si sono resi conto, io mi trovo come ne sono resi conto, ma non si sono resi conto dell'importanza della piaggio che è in finale, perché ricordo perfettamente un articolo di un giornalista, che tra l'altro lo posso anche dire, è stato anche Sineco di Finale, giornalista Cervone, che aveva scritto l'isola felice di Finale Ligure e qui eravamo negli anni 90 e che scrisse questo articolo, piaggio era una cosa importantissima a sostegno dell'industria che purtroppo è l'unica che è rimasta minare la turistica, il turismo era vivace, buono, intellettivo, però il vivere bene e la sicurezza dello stipendio del tutto era con la piaggio, ogni famiglia della piaggio aveva perlomeno o uno o due persone, famiglia di Finale parlo sempre, ma anche delle zone limitrofe, aveva uno o due persone all'interno della piaggio che bene o male portavano a casa uno stipendio, non sarà stata un'esagerazione, però era uno stipendio che permetteva di vivere. Grazie. Grazie.